Michela Bergozza, due successi in tre gare a cui hai partecipato. Un inizio stagione un po' problematico, però le vittorie stanno arrivando. Sì, diciamo che a causa del Covid ho avuto parecchi problemi nei primi tre mesi. Marzo è cominciato a girare e adesso va bene, stiamo tornando in forma, piano piano. Abbiamo visto il Presidente in griglia che quando non ci sei al suo fianco soffre. Soffre, soffre perché siamo abituati a partire tutti quanti vicini, quindi giustamente siamo come una famiglia, quando ci dividono c'è qualche problema, però dai, è arrivato subito, quindi va bene così. Dopo l'Aliotto è arrivato il successo in questo Gran Fondo San Benedetto del Tronto, una manifestazione che si svolge in uno straordinario contesto. Come hai trovato il circuito? Per me San Benedetto è bellissimo, abbiamo una trasferta lunghissima per arrivare qua, ma veniamo sempre molto volentieri perché proprio il percorso è bellissimo. Non ci sono salite lunghissime, è un po' tutto in su e giù, ma bello, bello anche il panorama, bello il percorso, bravi quelli che dirigevano il traffico, quindi non posso dire assolutamente nulla. Bella e sicura? Bella e sicura, assolutamente sì.